No aspetta, farli prendiamo un pochino a fuoco Spiega i componenti della parte Allora, qui c'è... Quanto era un sacco di cipolle? Eh, una ventina No, ma quanto pesava? Due, tre chili? 15 chili c'era No, un paio di chili Allora, tre chili di cipolle Facciamo tre chili Tre chili di cipolle E tipo 25 Trezzetti Trezzetti, trezzetti Potrebbe non bastare, tra l'altro, secondo me Calorie di una bomba nucleare Qua si fa il pilavino al fuoco Apri perché... Un fuoco è colto il destro Il momento è solente Per me si potrebbe buttare È un momento? Vai! La butto, butta più... No, cerchi di fare... Omogenea Bella roba, ragazzi Mmm, spicciata È mezzo, è mezzo È mezzo, è mezzo Bravo Eccolo, sì Passiamo un po' il fuoco Eccolo Cioè... No, un guscio Il guscio è il fuoco No, no! Vede, è semiglio È qui, è qui Aspetta, aspetta Sfuggi Dementi C'è anche lì Vio, gatto C'è anche lì, Tom Eh Ma che banda è? Vai Oh, se le sapevo sgusciarlo Voi era la prova del cuoco Se a me andrebbe colta col coperchio, ragazzi Perché cosce bene anche sopra Eh, ma diventa gommosa Vabbè Questo è lato Standing issue Ma è stato messo il sale? Sì Il sale? No, mi ne restano meno Sì, sì, ci sei messo ora Mondiale Vai aspettate C'è un po' d'olio, ma insomma Sì, mi ha fatto Troppo dopo Sì, mi ha problemi di colesterolo Sì Allora? No, vai Dopo questa Per dieci minuti Dopo questa Sarebbe buona, gestisce più il discorso Il discorso bordo Sì Io sarei per rompere, ovunque Perché tanto non verrà mai, ragazzi Ci sarei per rompere? No, guarda, faccio Non lo se viene No, no Sigilla No Ma non ci sta nemmeno le coperci Non ci sta nemmeno le coperci Si gira Si gira? Si gira Va bene Sì 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 Va bene Tristinati Non si mangia Vai, io dico Tanto il numerino magico Vai, fai, ti hai rinunto l'elisoccorso Venga, su Vieni Da Badia Vieni, cansa la decisione più consona Vole essendo te Si gira Vai, gira Sì, sì Adesso non ce la posso fare Ma lanciandola Eh, munitevi di presine Foil Foil del dofusione Sì, la presine fa Me la metti Pi ricca c'è il guanto Sì, non so quasi sicuro Si fa di sopra la vostra Si battezza, bisogna dargli un nome Grossa ossia, ma gli va da un nome Franco Amiatina No, Amiatina Cario Qualcosa fa di male con cipolla No, come sta per qui Salvatore Alza qui Alza un pieno sotto No, no, ancora no Mi ha fatto andorri dell'aria No, no Sembra una cosa di cattolo Mi spaziate, sembra Andrebbero a fare la mangiuccia Forza ragioniere Strane bolle bianche Mi devo amiantare il braccio Sostanze indefinite Se no, non vale Altrimenti è squalicato E poi ti meriti un grigio Si gira al volo? Eh, sì, al volo Quando te la senti Prendi l'auto Ma ancora, ancora a presto Sì Però ragazzi Mi devo amiantare il braccio Sì, no Presto Non voglio di niente Cosa fa? Eh, sì, se no La vita è che si riesca a girare La Indosserei anche un po' 0,3, 0,4 E l'orguglio della giornata Lo spaccherai tutto E non nessuno mangerà niente No, però questa è la previsione Non è una tragedia Eh, appunto L'ha impedita di riparare No, no, no Io seguo rica A prescindere Guarda, non si attacca Qua ti do del cretino Di tra vita Sì, anch'io Ho idea Cosa mi fallisce Ma io a bollore Fornello Però credo in te Penso Non c'erano molto Tanto a coce una frittata Ti ricco senza un braccio Può lavorare uguale Tanta lavora Perché deve andare al lavoro Se non è fortunato Scusate L'operazione di fritto Io direi che è quasi quasi No, no È troppo È troppo Molincia Ma sopra Ma sopra No L'uomo non è riuscito Sotto c'è C'è un bello spessore L'uomo non è riuscito a creare Quello straffo Secondo me no Il problema è che è un pulino piccino Questo pezzo Eh ragazzi Ti vuole all'olio Capito La cipolla è l'occhio In grande quantità Se cuola all'olio è solo un bene Ma dopo di espandersi Unifondimento sul polo della sola Sì, ma questo non è un bene Ricca ma se cuola un po' d'olio è un bene Non è il tuo braccio La setetta Dica Ma mettiti un guanto Un guanto di erisali No No Vabbè Ti la senti? Eh no Però qualcuno Allora È paragonabile Allora Prendete un'altra presina E bisogna girare Cioè bisogna Traslare No Cioè da Tutte è paragonabile Si rimalta completamente E poi ce la E poi ce la faccio riscivola Sopra Sta bruciando Questo bordo Non mi sembra molto adatto È uncinato No no va benissimo Sta bruciando qualcosa Aspetta È a padupinze Ma va fast Ma un'altra presina Porco Dio Tre ore Vi do i piglialli Onzo lì Ti ero 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 Paura ragazzi Eh no Non c'ho Ma qualcuno l'ha mancato Aspetta di cammino Che non lo faccio mai No No Un bagno Dai Ti ero 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 Io sarebbe spezzato Dai Se no si butta via Sopriamo Dai Ormai Si è fatto Se si butta via Ma lo sai perché Perché c'è No Si è firmata Da dove le rovesciate Si rovescia Dove si domina Tre Uno Due Uno Te tieni Tu giallo Eh È andato Aspetta eh Alza Alza No Grande Ricca Incredibile Grazie No No Vabbè Si mangia È mangiabile Sennò come fa Cos'è Ragazzi Yeee Cazzo Cazzo Occhio Lecca 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 Lecchia 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 Povero Sennò si brucia Nel lago No tanto William è cotta Solo due Anche nel mezzo Anche C'è Alta Occhino No Tommy Ma che dici No Ma che fai Che dolio E' pregna d'olio Mi dai un morso E' come me da un gotto d'olio Era un po' gotta sotto Eh vabbè no Perché se 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 atteso troppo Non si sapevamo che fare Allora No ma così Grazie E' buona E' speciale Sì sì Ma ho mangiato di peggio Ma parecchio Questo malattro c'è veramente D'altro olio Che fai Che fai Massaggi Che me Lercio Rovina Di provato Buona Merita Ciò che un po' Il bordo è bruciato E' un po' bruciato tutto No Verai Si toglie la parte La mangio io la parte bruciata Questa va finita Io un quarto lo mangio Non ho scioltezza di più Ma alla fine poi rimane corta Tutti noi i uomini Eh è vero Ora vuoi essere Sono capace di giurata Ora a volte mi pare un pallonore Finissimo Non è tutto Bisogna fargli straordinari Ti ha mangiato anche la pasta Lì fa Ha fatto anche orazioni Infatti per questo è dio Che domani c'ho da andare A correre Per funzionare Cioè vai a corta da ora Guardiamo sotto Se è brutto No ma vedi nel mezzo E sprolla Lascia lascia ragazzi Cinque minuti va a corte Vedi c'è tutta La brodina No ma poi morbi Però per fortuna si è girata Ma è ovvio Non sta bene Non c'è ne colava niente Ma Padella si può buttare via No No Ma che c'è niente? Ma quell'altra frittata? È finita? La palla Padella io ora appena si è tolta la cosa ci metterò subito il sapone Almeno se vede Questa è un'altra verità Eh lo so ma quando si è tolta questa ci smutta subito il sapone Ma che c'è da un sapone? Ma che c'è da un sapone? Ah oh ci può rientrare bene Sta filmato uguale? Non ce l'ha filmato? Ci vorrebbe un altro ingrediente segreto secondo me Sì che è una cosa da fare Cioè allora lì in quella busta c'è il pepe quello da grattaccio Si mette dopo perché tanto a tutti non li garba Si vuolta tutto Lì in quel cartone interno La cosa può calore al formaggio No no io la voglio La ciur Ci buttate le ai Che No 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 Con la butta c'è una pelle No 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 L'asciuti Ragazzi io sono orgoglioso di questa cosa Si ho fatto un ottimo lavoro Noo Quando si fa domani? Però bisogna lasciare 50 ore la prossima Se io ando al laboratorio ci sono padelle ancora più grosse Grossi Sì come va? Trentova Speciale Ma potete andare a servirla ricirata un'altra volta o no? Stai andando bene Eh sì appunto Non forziamo Non rischiamo Non forziamo Ah buono sì croccante Ma è cotto lì? No non è cotto ragazzi Mi sento un po' se è morbidoso Questa ragazza è come bere una bottiglia d'olio frumo Sì sì È olio buono è il mio altro riaio voglio dire Oh oh Olio con 30.000 km Ah Volevi dire Master chef Quanto li si dà ancora? Ma se non è basta Si spengi vai Dici? Oh C'è un geyser qui Fenomeni geovermici Io abri il sito internet eh Giro le frittate www.girolefrittate.com Metti la nutre frittate No bisogna fare il sito extreme cooking E' vero eh 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 Eh ci vedo eh E' vero eh Dottorio perché ha già frittato Incredible extreme cooking Metti la luce alle insomma che è entrato e giro frittate E' vero eh D'avventura ma c'è una burra e cosa? Dai piaccia Sospenta 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 Preparate i piatti Ci vuole le tratti e non fate Via Ah Fica problema Atten drukare Eh Eh non mi tira la Handicare ma che bruciare è ottimale è speciale